salve da michele expert questa è la preparazione finale dei dolci natalizi questa è una parte un altra parte poi si può sempre aggiustare abbiamo le nostre scalille anche guarnite con paroline con anche miele con nostro vino cotto di grande grande pregio abbiamo i nostri crustoli anche questi sono stati grassati con del miele e crudino cotto e le palline ho formato queste queste montagnelle e questa è una vera pignolata o differenziarmi con la pasta convetti volevo preparare questa cosa più grandicella e ce l'ho fatta anche questa guarnita con una glassa di miele e di miele diciamo di uva ecco questi sono invece stati sono stati spennellati glassati con del cioccolato fondente questi sono sempre i nostri crustoli o meglio chiamati tardilli e con questa ripresa vi auguro buone feste di natale poi domani ci saranno tante occasioni ancora per sentirci nel tentativo di trovare qualche idea anche domani adesso io non ho nulla in testa ma qualche cosa mi verrà sicuramente